aspetta ma è il mese di maggio questo il mese dedicato a maria aspetta che entro in chiesa un attimo ma cosa c'è davanti all'altare di maria aspetta che mi avvicino un po ah giusto i fioretti cosa sono i fioretti beh detto semplicemente è un piccolo sacrificio oppure un impegno o un buon proposito che si offrono a maria o anche a gesù ecco che allora su questi piccoli fiori colorati possiamo scrivere una preghiera di supplica o di ringraziamento o di affidamento o un buon proposito appunto un fioretto e poi dopo aver scritto quello che vogliamo andiamo a piantarlo su quel manto erboso che sta alla base dell'altare della madonna questa preghiera scritta con il cuore poi salirà al cielo verso maria appunto lei se ne prenderà cura ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amén grazie a tutti grazie a tutti